Patrona, abbiamo quello che avevi chiesto. Avete avuto problemi? No Patrona, è andato tutto bene, come l'hai stabilito. Quanta era la roba? 500 grammi Patrona. Quattrocento? Qui c'è qualche figlio di ventana che mi vuole inculare. Patrona, Patrona, no, no Patrona, per favore, per favore Patrona. No Patrona, non ho mai sopportato i traditori infami. Quattrocento? 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 Quattrocento?